bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video allora proviamo la sky la mia veria contestato di brutto cambio non è un problema pesco farmo la pietra e poi me la ragiono ho preso la distanza fantastico potremmo anche beccare snappetti essami in europa raga 30 di legno ogni ogni radice ho detto che non si deve fare con la sky si dai sei forte ora un bottazzo andiamo possiamo perdere un po di tempo raga e buone buone ma non mi serve il palco non mi serve ai dammi peci puzzolenti dai dai 20 secondi a parte la 6 si è messi bene il pesce scorenja dammi il pesce scorenja dai sembrerebbe che non ci siano snappi sarebbero già venuti qua allora c'è a dire che riuscire a farlo in europa è una figata non mi servono le granate ok full pietra via 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 il problema è che non abbiamo non abbiamo armi come mi spiego pensi di vincerla una sky base senza le armi ma giusto per chiedere qua ci serviva un veicolo c'è già un altro errore non ho un veicolo fondamentale questo taxi sì sì non abbiamo armi raga non siamo messi bene andiamo vai 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 si parte esattamente da lì un minuto 26 la sky parte esattamente da qua me la rischio un pelo faccio una cosa diversa non è un problema allora visto che non ho fretta di partire mi prendo il metallo da qua 200 200 ok oggi posso fare una build entra andiamo signori ci va incrociamo le dita ragazzi potrebbe non funzionare attenzione appena diventa rosso un momento ok ok non sono messi male colina con i mazzi ammessi no 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 adesso si aspetta un minuto si parte quando mancano 15 secondi no no si vede solo per questa se dobbiamo incrociare la dita per questa safe mi sembra che non c'è nessuno quindi non ha neanche molto senso già dalla prossima non si vedrà più aspettiamo ancora 12 secondi 20 secondi e partiamo come farò a vincerla questa è una bella domanda volevo solamente farvi notare che siamo ancora in legno di solito qua io stavo già usando il mattone la posizione per la partenza è veramente buona ok inizia il mattone adesso ok con calma signori con calma o calma adesso noi la vediamo la base della scala ma in teoria loro non lo vedono guarda che bel panorama te qualche roba qualche roba il nostro fortnite ecco questo non va tanto bene in realtà non va tanto bene che la se doveva chiudersi più più di qua il fatto che si guida qua non va benissimo c'è sotto un tizio la però non dovrebbero loro vedere così è una parte molto bassa della mappa quindi in realtà noi lo vediamo ma loro non lo vedono si può partire con la 6 con calma ragazzi con calma con calma siamo in 7 qualcuno sta andando a prendere il drop perché non ingrandisce siamo dentro easy raga hanno hittato il drop ma non è andato a prenderlo nessuno siamo ancora in 7 non cada ragazzi con calma con calma sì però avete ragione bisogna stare attenti perché se la fanno cadere subito a mangiare il pesce oppure overbuildare ragazzi possiamo overbuildare come i pazzi abbiamo tantissimi non sono mai arrivato con tutti questi maz qui abbiamo tantissimi maz 6 giocatori dentro si scannano la sotto il problema è che non abbiamo armi per vincerla ragazzi prima overbuildi poi al massimo pesce o ecco questo è molto buono dunque metto un gomito qui e rientro dritto di là ci sta così raga ho fatto il gomito più in fondo così non dovrebbe essere evidente con le prossime safe con calma ascolatemi se parlo poco ancora uno non ci sono i cecchini posso cechinarti ancora un attimo prima del ferno si sta a cominciare col ferro adesso quello è l'unico modo in cui potrebbero sgamarti quel gomito lì che ho messo dentro in cinque fanno esplodere tutto sono al massimo dell'altezza va bene che sono rimasti in cinque perché se tengono in cinque ancora quante sei mancano la sesta tempesta di nove devo rimanere almeno in tre prima della penultima che non sarebbe affatto male perché così puoi veramente provare a vincere la deal off voglio aspettare un attimo prima è quattro dentro due si scannano la sotto sì forse tre dentro va bene che ci sono un po di strutture così potrebbero non far alzare lo sguardo devo rimanere in tre devono esistere ancora un minuto e mezzo in tre se non è un casino bene 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 ci sono tantissime strutture va molto bene questa cosa con calma raga con calma con calma resistete ancora un attimo resistete ancora un attimo pesce sempre pronto sono ancora in tre ragazzi tempesta numero 7 dai dai resistete ancora 30 secondi vi prego ancora 30 secondi non devo scendere non sono convinto per l'over build ancora calmi 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 non è così evidente mica noi vediamo ancora addirittura la base ormai gli siamo sopra qualsiasi build a gomito non è più un problema chiudere ti prego cerca di capire dove la safe sono ancora in tre ti prego chiudere ieri ho perso perché non capivo dove era la safe è molto buona questa raga è molto buona siamo ancora in tre raga più uno è molto più Dai. 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 Let's go! Let's go! Let's go! Save! Save! E la chiude! In safe! Sopra la Skybase! Let's go! Let's go!